E' quando lo scrittore Aldo Busi, quando il grande scrittore Aldo Busi mandò a quel paese Marco Travaio, direttore del Fatto Quotidiano, per motivi concernenti la privacy sessuale. Io che vi parlo qua in questo video mi chiamo Serafino Massoni, sono autore di quest'opera, di quest'altra opera e di tantissime altre opere e ho dedicato tanti video a Marco Travaio. Marco Travaio è l'uomo più puro del fondo, Marco Travaio. Mi meraviglio tanto che il grande scrittore Aldo Busi l'abbia mandato a quel paese Marco Travaio, direttore del Fatto Quotidiano. Beh, vediamo un po' di che si tratta. Qualche tempio fa il grande, grande scrittore Aldo Busi, grande, grande scrittore Aldo Busi, scriveva sul Fatto Quotidiano. Però Aldo Busi è uno che dice pane al pane e vino al vino e all'acqua gli dice San Pellegrino. È un po' come me, è fatto così, è fatto a modo suo, così come io sono fatto a modo mio. E si vede che non gli piaceva la grande purezza di Marco Travaio ad Aldo Busi, perché Aldo Busi forse la pensa come la pensava Pietro Nenni, Pietro Nenni, Pietro Nenni, che ai suoi allievi diceva sempre Attenti a non fare il gioco di chi è più puro, perché poi trovate sempre qualcuno di voi più puro che vi è pura. Marco Travaio, Marco Travaio, nome, nome, grande Roma, grande Roma, nome, nome Travaio, Travagliare, 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 Marco Travaio. Ah, beh, allora, che succede? Quando Aldo Busi scriveva sul Fatto Quotidiano, il Fatto Quotidiano lo sputtonava in continuazione, l'ex cavaliere, parlando delle questioni sessuali del cavaliere, è puro, Marco Travaio è puro, è chiaro che il Fatto Quotidiano si dedica alle impurità e quindi tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni Marco Travaio parlava delle impurità sessuali del cavaliere, Marco Travaio, poi salta fuori però che abbiamo Lucio Dalla, il grandissimo cantante Lucio Dalla, che era omosessuale, grandissimo, grande, grandissimo, dolcissimo cantante Lucio Dalla. Però Lucio Dalla non volle fare outing, outing, non lo volle dire che era omosessuale. E Marco Travaio disse, fa bene, fa bene, fa bene Lucio Dalla a tutelare la sua privacy. Marco Travaio disse, sì, fa bene Lucio Dalla a tutelare la sua privacy, cioè a non fare outing, a non dire erga omnes di essere omosessuale, fa bene, fa bene, fa bene. E ad Aldo Busi gli è andata la mosca sul naso e ha detto, ma come Marco Travaio, proprio tu parti che tutti i giorni parli della sessualità di Silvio Berlusconi? Ma non sta la coerenza tua, non sta la coerenza tua. E così, e così, il grande scrittore Aldo Busi, a Marco Travaio, gli ha dato quel grande calcione nel sedere che si merita e non ha più scritto sul fatto quotidiano. Avete capito il ragionamento? Ma guardate che io, queste cose ve le dico perché io sono un cacciatore di Edelweiss, stelle alpine. Io giro, navigo sul web 2.0 e vado a cercare le notizie Edelweiss. E le Edelweiss non sono mica fiori qualsiasi, eh? Una rosa la trovate dappertutto, un tulipano dappertutto, un calofano dappertutto. E per trovare le Edelweiss, per andare lassù, sulle alte montagne, sulle rocce. E così io navigo, navigo, navigo. Perché io nelle lontane americhe sono stato definito, sono stato definito, sui giornali delle lontane americhe, definito con tanto di fotografia giovanile di quando io avevo 23 anni, sono stato definito The Knight Errant, Cavaliere Errante. Io erro, 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 vado pure a cercare le Edelweiss. E ho trovato questa Edelweiss e ve la metto nel riassunto di questo video. Ma quanto so contento che il grande, grandissimo scrittore Aldo Busi lo ha mandato a fanculo, l'uomo più puro del mondo, che sarebbe Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, che non fa pettegolizzi, eh, Fatto Quotidiano, no, rispetto alla privacy. Perché Marco Travaglio ha detto che ha fatto bene, ha fatto bene, ha fatto bene Lucio Talla a non fare outing. Ha fatto bene perché la propria sessualità va tutelata. Così come Marco Travaglio tutelava la sessualità di Silvio Berlusconi. Ha fatto tanto bene Aldo Busi. Bravo. Ah, prima di chiudere, io l'ho visto una volta Aldo Busi, eh, l'ho visto una volta. a Roma, in Piazza Santissimi Apostoli, parlo del 1994-95, c'era una libreria in Piazza Santissimi Apostoli. Aldo Busi, se mi segui puoi confermare o smentire, ma tu che c'era la libreria lo puoi confermare. Poi, che ci siamo incontrati, no, magari tu non te lo ricordi. E io ero lì nella libreria, e ero lì nella libreria, che tenevo tra le mani il mio primo romanzo, il romanzo number one, intitolato Le rose del Vaticano. Un celebrimo romanzo che poi è stato ripreso dalla casa editrice internazionale Aschette e pubblicato col titolo Lava la rosa. Eccolo qua. E io me lo giravo tra le mani questo primo, questo romanzo, e avevo una un gomme di blu, blu scuro. Aldo Busi stava dietro di me, io non l'avevo visto. Stava dietro di me, perché anche lui, se ne aveva in giro poi le librerie. E quando vede che io giravo e rigiravo questo romanzo Le rose del Vaticano, che adesso è questo qua, la lama e la rosa, Aschette, mi disse lei è un prete? Con una voce gentilissima, è di una gentilezza, è di una sensibilità incredibile Aldo Busi. Ha fatto bene a mandarlo a fa'culo. Marco Trabaio ha fatto bene, hai fatto bene Aldo Busi. Lei è un prete? No, non sono un prete. Io sono l'autore di questo romanzo, gli ho detto, tu lo guarda, perché era stato edito a Palermo dalla casa editrice Novecento. Casa editrice, una pregiata casa editrice Novecento. a Palermo ci sono due grandi due grandi case editrici. Sellerio, Sellerio che pubblica i gialli di Montalbano, e poi c'è Novecento. E lui mi disse Novecento, cioè la casa editrice che aveva pubblicato Le rose del Vaticano, Novecento è il migliore di Sellerio. Tu non te lo ricordi Aldo Busi? Era il 1994-95 in piazza Santissimi Apostoli, cioè nei pressi di piazza Venezia, di vicino a piazza Venezia, va bene? Aldo Busi non te lo ricordo. Io me lo ricordo. Mi ricordo la tua voce dolcissima, Aldo Busi, eh? So contento, Aldo Busi, che l'hai mandato a fa'culo. Marco Trabaio, hai fatto bene, hai fatto bene, hai fatto bene. Ok, cari amici, per chi non mi conosce, io sono questo qua e sono anche questo qua. Hai fatto bene, Aldo Busi, eh? A tutti, tanti, grazie.